Presidente Zariani, una nuova iniziativa molto interessante nelle domeniche in cui giocherà in casa la Juventus Domo? Allora, adesso solo una bozza, nel senso che abbiamo intenzione di fare il progetto Sport Pulito, che si chiamerà Sport Pulito. La nostra squadra di calcio non ha la mascotte, quindi in organizzazione con le scuole vorremmo individuare la mascotte, sentire dei cavatori una volta individuata che ce la facciano da presentare qui allo stadio e poi lo Sport Pulito con il settore giovanile, con la prima squadra, i Juniores, ci comporterà una progettualità per invitare qui ogni domenica un campione che non necessariamente sarà un campione dello sport calcio, ma un qualsiasi sport. Adesso prenderò contatto con tutti, iniziamo dal nostro sportivo campione che è quello dello sci, che è Blardone. Non solo sportivi locali quindi? No, anche quelli più importanti. Io ho in mente qualcuno, ma non so se accetterà, spero di sì, mi auguro di sì.